Ciao a tutti e a tutti, ragazzi e ragazzi benvenuti e bentornati in un nuovissimo video, oggi letteralmente black and white, cioè fermaglio bianco, choker nero, smalto bianco e nero, giacca nera, oggi bianco e nero, vai! Finalmente è arrivato il tanto e atteso video sulla mia terza stagione estiva, nonché quinta in generale come animatrice, quindi come la mia personalissima carriera da animatrice, questa è stata la mia quinta stagione. Io sono molto felice di come sta andando la mia carriera lavorativa a livello appunto di animazione e oggi voglio appunto parlarvi di quella che è stata la mia terza stagione estiva, nonché quinta stagione in generale. Sono finalmente tornata al Serenè che mi è mancato così tanto, mi mancava l'ambiente blu serena, finalmente sono tornata al Serenè dopo una serie di richieste esplicite al mio capo aria, dove ho praticamente chiesto mi fate tornare al Serenè per favore perché quella è letteralmente casa mia, io ci sono nata al Serenè, la mia prima stagione l'ho fatta lì, l'ho fatta in blu serena, mi mancava l'ambiente blu serena, mi mancava, sembra strano a dire, mi mancava la molle di Lamoro che sia in blu serena che non sia in altri posti, mi mancava l'animazione all'italiana, mi mancavano gli ospiti italiani, mi mancava tanto e finalmente sono riuscita a tornare in blu serena e sono stata veramente veramente felice di essere tornata. E' stata una stagione diversa dall'altra, diversa dalla prima, perché la prima in qualche modo ti resta impressa in una maniera particolare, perché la prima stagione è la prima stagione, non ci vuoi fare niente, la prima stagione ti rimane in una maniera particolare rispetto alle altre, proprio perché è la prima, proprio perché segnali l'inizio o l'inizio e la fine o l'inizio di questa carriera e quindi per me è stata simbolo di tante tante cose, però questa non è stata davvero. Il non essere stata l'anno scorso in blu serena mi ha evitato il passaggio aziendale, perché non so se lo sapete ma blu serena non è più acquistata dagli spagnoli, quindi blu serena non è più italiana, nel senso i villaggi sono tutti in Italia ma i proprietari sono spagnoli. Quando è stata acquistata dagli spagnoli ha cambiato una serie di cose, sia a livello di animazione, sia a livello di villaggi, sia a livello di logo e tutto quanto, quindi io non mi sono trovata nell'anno di passaggio, ovvero il 2023, perché io nel 2023 ero ai giardini in Axos, non ero in blu serena, quindi l'anno di passaggio dal vecchio blu serena italiano al nuovo blu serena acquistato dagli spagnoli io non l'ho vissuto, quindi non ho vissuto la fase di passaggio del cambio logo, non ho vissuto la fase del passaggio del cambio di vise, tutte queste dinamiche io non le ho vissute, anche del cambio sesso del villaggio, della riverniciazione, si dice rivernicione, non lo so, rivernicione esiste quindi penso di sì, del villaggio, di tante cose che sono state tolte, di altre cose che sono state messe, io questa parte non l'ho vissuta e per me è stato un bene, perché io mi sono trovata in villaggio quest'anno con tutto già cambiato, ed è stato un bene per il mio modo di essere, per il mio carattere, per il mio essere estremamente condizionata dai cambiamenti, non che non mi piacciono, ma sono molto condizionata da questa cosa, alle volte in positivo, alle volte in negativo, e l'essere arrivata in un villaggio che era praticamente già cambiato mi ha facilitato molto l'approccio diretto con il villaggio stesso, quindi per me è stato necessario avere già tutto quanto modificato, perché mi ha facilitato tantissimo proprio l'approccio al lavoro in generale, al vivere di nuovo in blu serena e tante altre cose. Sicuramente in generale ho notato come il cambio ha portato una mole di lavoro distribuita in maniera differente rispetto agli anni precedenti, molte attività sono state tolte, molte attività sono state modificate, gli orari sono stati cambiati, tante cose non si possono più fare, tante cose invece è la prassi che si continuino a fare, ma si sta andando sempre verso un tipo di animazione molto più internazionale che vecchio stampo italiana, proprio perché il villaggio sta acquistando e sta acquisendo sempre ospiti più internazionali, e anche a livello proprio di animazione noi siamo obbligati attualmente a fare l'animazione doppia, quindi molte cose vanno fatte sia in italiano sia in inglese e soprattutto per i villaggi, dove appunto è semplice ed è più facile che arrivino ospiti stranieri. Mi mancava stare in quella struttura, io sono arrivata il 2 giugno e ho marcado il cancello del Serenè, che non mi rendevo conto che ero di nuovo al Serenè, nonostante ci fosse una nuova insegna, una nuova grafica, non c'era più la scritta Benvenuti al Serenè Village, ma c'era Serenè Resort, Hotel, 4 stelle, Resort, 4 stelle, il nuovo logo di Blu Serena, che non è più la classica ondina a cui penso quasi tutti siamo abituati, per chi conosce la catena Blu Serena, adesso c'è questa B formata da una specie di 8, che è poi quello che noi facciamo nella sigla, che è questo qui, si stava a fare in musical di stile Blu Serena, quindi con tanto recitato, nonostante io abbia partecipato solo a uno, ma mi è mancato fare proprio tutte le cose che si facevano in Blu Serena, tutte le attività che si fanno con i ragazzi, io sono sempre stata Serenepi, quindi non ho mai cambiato il mio ruolo, ma mi mancava proprio il fatto di fare tante cose, tipo fare animatori per un giorno, fare la tendata, voi direte, oddio ma quante cose, ecco a me queste cose mancavano tutte, cose che in altri villaggi non ci sono, perché proprio questo è un format Blu Serena che fa solo per Blu Serena. Perché dico che è stata una stagione particolare? Allora, è stata una stagione particolare perché è stata la mia prima stagione con un capo equip diverso, perché, parlo delle estive, perché io ho sempre avuto lo stesso capo equip che è quello che praticamente mi ha presa, mi ha formata, mi ha fatta crescere a livello di animatrice, quindi questo è stato effettivamente il primo anno dove io avevo un capo equip diverso, avevo i responsabili tutti diversi che non conoscevo, escluso il mio personale responsabile che è stato un animatore con me nella mia prima stagione, quindi avere un capo equip nuovo, tutti i responsabili nuovi, anche alle volte provare a dare una mano perché c'erano tantissime persone in prima stagione, tantissime persone in prima esperienza che non sapevano proprio come gestire il tutto, è stato molto molto gratificante, è stato molto molto bello. Mi mancava tutto di Blue Serena, mi mancava avere le serate a tema, mi mancava avere tanta gente in giro, mi mancava avere tanti ragazzi nel gruppo dei ragazzi, appunto essere neppi, mi mancava vedere tanti bambini che camminano avanti e indietro, mi mancavano i barissimi, mi mancava la reception, mi mancava tutto, tutto di quel villaggio, mi mancava tutto. E io spero di tornarci un altro anno perché mi rendo conto di quanto effettivamente la stagione in Blue Serena mi manca e di quanto mi è mancata la stagione in Blue Serena. Io so di non essere stata perfetta in questa stagione, so di aver fatto una miriade di errori ma penso sia più o meno normale, non dovrebbe esserlo, lo so, però mi rendo conto di essermi impegnata come ho potuto, di aver messo il 110% di me stessa come sempre, di essermi impegnata veramente, veramente per quello che è l'obiettivo di Blue Serena, ovvero portare un prodotto eccellente a livello dell'animazione e a livello in generale. Sono stata molto, molto contenta di rivedere determinati ospiti che sono tornati, appena hanno saputo che io ero lì a fare di nuovo animazione, quindi questa mi è piaciuta veramente tanto come cosa. Mi è dispiaciuto non vedere determinati ospiti e non vedere determinati animatori che alcuni hanno proprio lasciato il mondo dell'animazione dopo anni, altri hanno cambiato villaggio e via dicendo. Mi è dispiaciuto non avere alcuni colleghi, però ciò nonostante avere altri colleghi nuovi mi ha aperto un mondo perché ho conosciuto tantissime persone nuove, ci sono tante dinamiche nuove che prima non c'erano ovviamente perché, ripeto, anche il cambio di gestione, anche determinate cose che facciamo noi sono cambiate e sono cambiate molto le sale all'interno del ristorante, sono cambiate, è cambiata la reception all'interno, è cambiato il modo di gestire l'accoglienza perché sono cambiate determinate cose. Cioè, per me vedere questo cambiamento ha fatto compiuto, cioè ha cambiamento già avvenuto. È stato nettamente migliore che vedere il processo di cambiamento perché non mi sarei abituata per niente, sarei stata lì disperata. Vi dico che appena sono arrivata, sono andata in un posto in particolare e credevo di piangere disperata per tipo una settimana, cosa che non è successa. Quindi sono compiaciuta da me stessa per come ho affrontato questa cosa, sono molto soddisfatta di come questa cosa è avvenuta e non credevo, vi dirò, non credevo di riuscire ad agire in maniera così positiva, non credevo assolutamente di essere in grado di gestire questa cosa in maniera così tranquilla, ma ci sono riuscita e sono molto soddisfatta di questa cosa. E voi direte, di cosa stai parlando? Svegliamo un arcano, andare al campo di tiro con l'arco senza stare male. Perché sapete anche voi chi c'era al campo di tiro con l'arco, cosa ha significato per me il campo di tiro con l'arco per tutta quanta la mia prima stagione, quanto io ci sono stata dietro al campo di tiro con l'arco, per tutta la mia prima stagione. Sapete chi c'era al campo di tiro con l'arco, chi era l'animatore, istruttore che appunto faceva parte del tiro con l'arco. È stato tutto molto bello, in sintesi sì, è stata una stagione abbastanza faticosa, mi sono stancata veramente tanto perché mi dovevo riabituare ai ritmi di blu serena, però è stato quello stancarsi in maniera positiva, cioè non è stato quello stancarsi che ti priva di volontà, priva di voglia di fare. Io avevo sempre voglia di fare qualcosa di nuovo, volevo sperimentare sempre, volevo creare, è stato bellissimo poter aiutare la scenografa così tanto, a differenza di quando c'era due anni fa il nostro vecchio scenografo che diciamo mi ha presa come aiutante un po' troppo tardi, io sono stata in grado di aiutare la nostra scenografa quasi fin dall'inizio, ed è stato molto molto bello. Così di supporto per determinate persone, mi è piaciuto aiutare determinati settori veramente tanto e sono stata molto grata quando determinati colleghi mi hanno detto che io potrei ambire ruoli molto più alti che stare semplicemente con lo junior, che poi in realtà junior, young, ogni villaggio per lo chiamo in maniera diversa, vabbè, in blu serena si chiama Sarah Nappy, ovvero quell'animazione che gestisce la fascia d'età dei ragazzi dai 14 anni ai 17-18 anni più o meno. Anche se con me sono stati ragazzi anche più grandi, sono stata molto felice di questo perché vuol dire che hanno apprezzato questa cosa, cioè che stare con l'animazione non significa perché bisogna per forza essere dei bambini, ma è stato bello proprio partecipare in maniera positiva. Mi mancava tantissimo la settimana di Ferragosto che per quanto sia la più stancante, la più, oh mio Dio, voglio solo dormire, è la più bella perché fai tante cose, le fai tutte quante in maniera estremamente dinamica, ti rendi conto che non ti fermi mai. Il villaggio in generale per me è molto il mio spazio safe perché mi rendo conto di come il villaggio mi salva tante volte dal pensare sempre a cose negative, dall'essere estremamente angosciata da determinate dinamiche che purtroppo non posso controllare, ma vivere in villaggio mi distrae, mi estranea dal mondo e mi rende partecipe di qualcosa di bello, di dinamico, di divertente e io sono molto contenta di questa cosa, mi piace tantissimo, mi piace essere parte di una realtà così attiva e è stato veramente, veramente bello. Ripeto, nonostante ci siano stati vari problemi con colleghi, uno in particolare, sono molto soddisfatta dell'aver condiviso tante giornate, tante esperienze con i miei colleghi, sono stata contenta di averne conosciuti alcuni e di confermare, diciamo, la mia conoscenza con altri, nonostante rispetto a due anni fa ce ne fossero veramente, veramente pochi, ma tutto questo mi ha reso sempre più conscia di quello che è questo lavoro, di quello che è questo mondo e come vi ho detto già in un altro video, io spero che almeno una volta questa esperienza vi va di farla e la farete. Sono molto contenta di come sia andata, nonostante, ripeto, le difficoltà, sono stata soddisfatta. È stata una situazione complessa, difficile, ma allo stesso tempo bella e ricchissima di emozioni e veramente, veramente divertenti in alcuni momenti dove io, cioè, passavo la giornata a dire ma veramente sta succedendo questa cosa perché era talmente assurdo che potesse succedere, ma in realtà succedeva e quindi ero solo grata dell'essere tornata in quella che per me è stata veramente casa e come direbbe il mio capo equip, noi siamo una banda di scappati di casa, siamo un po' dei nomadi in cerca sempre di un posto, che una casa la trovano nel villaggio in cui vanno e per me la casa è stata il serenè. che ringrazio veramente dal profondo del cuore per quello che mi ha dato quest'anno e questa è stata. Spero di tornarci l'anno prossimo, purtroppo non decido io, decido il capo area, il direttore e il capo equip, faccio un appello perché mi facciano tornare lì, sempre con il mio ruolo. Io spero vi sia piaciuto questo video, nonostante abbia detto poco e niente in realtà, però come al solito io parlo, 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 ma in realtà non arrivo mai a un punto. Noi ci vediamo al prossimo video, spero questo video vi sia piaciuto, io vi auguro veramente di provare questa esperienza a meno una volta nella vita. Noi ci vediamo, spero la settimana prossima. Ciao Serenè, spero di tornarci e grazie a tutti i colleghi e a tutti i ragazzi che sono stati con me quest'anno e questo è stato. Grazie a tutti i ragazzi.